Vertenza GAM è area di crisi complessa. Tra annunci roboanti e clamorosi ritardi, i sindacati fanno il punto. E' accaduto stamane a Campobasso, presso la sede della CGL di Via Mosca, l'incontro dei sindacati di categoria della Triplice, nello specifico Fai CISL, Flai CGL e Huila. Nel corso del confronto ribadita la necessità di perseguire una politica industriale che miri al rilancio della filiera avicola regionale, un asset che nel corso degli anni ha suscitato gli appetiti di grandi gruppi del settore, di caratura nazionale, e su cui si dovrebbe tornare a puntare. Il punto di partenza, sottolineano i sindacati, rafforzare l'interlocuzione, fin qui assolutamente insoddisfacente, tra lavoratori, parti sociali e regione. Proprio l'ente regione più volte chiamato in causa su questo fronte. Anche oggi ribadito infatti l'appello alle istituzioni, che i lavoratori ripetono inascoltati come un mantra da mesi. Il prossimo 4 novembre si esauriranno definitivamente gli ammortizzatori sociali, ma quello che vogliamo è il lavoro e non mero assistenzialismo. Loro vogliono lavorare, non è che vogliono assistenza, assistenzialismo, però in questo momento ci serve quell'aiuto che ci può dare la Cassa Integrazione Covid per attivare quelle politiche attive promesse negli accordi nazionali che abbiamo avuto al Ministero. Noi stiamo cercando di trovare appoggio dal governo regionale, però adesso abbiamo avuto solo un incontro con l'attuale Assessore a lavoro, ci ha dato delle assicurazioni, ma non sono del tutto rassicuranti, perché loro il 4 novembre scade la Cassa Integrazione e si troveranno con la lettera di licenziamento. Diventerà una bomba sociale per tutta la zona del Boianese. Si devono muovere. Oggi io parlerei della ricerca di soluzioni, le ricerche di soluzioni per rilanciare un attimo questa filiera qui e capire quali sono le reali intenzioni. Individuare una responsabilità in capo a chi in questa fase potrebbe servire a nulla, perché trovato il colpevole e non risolto il problema, sinceramente in questa fase a noi non interessa assolutamente. Quindi vanno rimesse al centro del dibattito quello che potrà essere il rilancio dell'area di crisi complessa. Vanno ricercati nuovi strumenti al fine di trovare il cosiddetto lavoro. Oggi a noi certamente, vuoi per le caratteristiche del territorio, vuoi per le professionalità degli stessi lavoratori, interesserebbe continuare a rilanciare la filiera vicola. Partendo dalla filiera bassa, e quando intendiamo filiera bassa parliamo dell'incubatoio che ha ripreso a lavorare. Ci sono le opportunità per un'impresa che sentivo che è interessata a realizzare un qualcosa del genere. Valutiamo questo progetto, analizziamolo, capiamo cosa vuol dire, perché noi abbiamo bisogno di rilanciare il sistema. Non solo noi, ma ci sono i documenti ufficiali della regione Molise che affermano che una delle traiettorie di sviluppo che può essere messa in campo passa per la filiera vicola. In effetti i numeri ci danno ragione perché questa è una terra avvocata per gli allevamenti. Ci sono grandi competitor che hanno degli incubatori. Sarebbe molto sciocco non provare a ricompattare tutta la filiera e quindi arrivare anche alla costruzione di un macello per avere quindi la filiera completata in questo territorio.